Pareri discordanti accompagnano in queste poche ore che mancano la manifestazione a Roma per l'apertura dell'aeroporto di Comiso la proposta dell'onorevole Pippo Di Giacomo. Se infatti la CUB Trasporti manifesta la sua solidarietà al deputato regionale e a chi intende partecipare all'occupazione di sabato dello scalo di Fiumicino perché le infrastrutture devono coesistere in sinergia, la CGL Raguse esprime il remore. Il segretario provinciale Giovanni Avola teme infatti che questa iniziativa si traduca in uno strappo che non servirà a nessuno. Avola spinge allora a scongiurare questa azione eclatante. Ci sono in cantiere per i prossimi giorni una serie di riscontri tecnici con comitanti, dichiara il segretario, che possono essere unificati e vagliati dal contratto di programma del trasporto aereo 2013-2015 al nuovo piano di protezione civile fino all'utilizzo dei fondi regionali per l'immediato start-up. Bisogna dunque evitare lo strappo dell'occupazione. Intanto a Comiso è tutto pronto per domani quando alle 19 ci sarà un comizio in piazza fontediana dopo il quale i pullman partiranno verso la capitale mentre l'occupazione è prevista a partire dalle ore 10 di sabato presso il terminal partenze dell'Alitalia. Parole di soddisfazione sono state espresse dal deputato Di Giacomo che dichiara una cosa è certa, non ci fermeremo e sconfiggeremo l'ottusità e l'ignoranza di chi colpevolmente tiene chiusa questa fondamentale infrastruttura. L'aeroporto di Comiso dovrà aprire costi quel che costi. Sempre sabato un'ampia delegazione di rappresentanti istituzionali, delle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali e di parlamentari consegnerà al prefetto di Ragusa Cagliostro un documento per testimoniare la volontà di tutto il territorio della provincia di Ragusa di sbloccare la situazione e procedere all'apertura dell'aeroporto di Comiso. Lombardo stupisce ancora e nomina un nuovo assessore ad un mese dalle sue dimissioni. Non bastavano i nuovi dirigenti e il cambio di nomine ai vertici di consorzi e organismi vari. Il governatore della Sicilia vuole accanto a sé in questi ultimi 30 giorni di governo a Cursio Gallo, nominato assessore alla formazione e istruzione che succede al dimissionario Mario Centorrino. Gallo, noto avvocato siciliano e appoggiato dall'MPS che così rafforza la sua posizione nel quadrum virato con l'API, l'MPA e FLI in vista delle regionali. Insomma, Lombardo ha dato un contentino ad un alleato in cambio forse di un appoggio incondizionato del suo candidato alla presidenza, Massimo Russo, che in discrezioni vogliono prossimo vicepresidente, dunque sostituto di Lombardo da luglio a ottobre. Ennesima mossa politica dunque da parte di Lombardo che sembra abbia dato la spinta finale alla mozione di sfiducia che Udc, Pdl e Pd intendono presentare a Lars. Da lì a segretario regionale dell'Udc avrebbe infatti annunciato che la mozione sarà votata il 20 luglio con pieno appoggio anche da parte del Popolo delle Libertà che era indeciso in tal senso, soprattutto in vista della possibilità delle primarie. Ma sull'argomento è intervenuto il segretario nazionale Alfano che fiutando odore di stabilità interna ha indicato la via da seguire che tutte le energie siano concentrate sulla ricerca di nuove alleanze. Accantonato dunque per adesso il progetto delle primarie, chissà cosa ne pensano i candidati del Pdl, ossia Cascio, Leontini, Castiglione e La Loggia, si rimetteranno al volere del loro mentore nazionale scegliendo la salvezza del loro partito o cercheranno fortuna altrove. Partiti al lavoro per riempire le liste. Anche se ancora i giochi per i candidati alla presenza della regione non sono conclusi, i vari esponenti politici che puntano ad uno dei 90 scranni di Sala d'Ercole cominciano a muoversi ed alcuni non tanto nell'ombra. Nella nostra provincia bisognerà eleggere 5 deputati regionali su 90. Sarà l'ultima volta perché dalla prossima legislatura scenderanno a 70. Ogni partito dovrà scegliere tre uomini e due donne da candidare. Iniziamo dal Partito Democratico. Qui la situazione è un po' come negli uffici postali. La fila è lunga. Gli uscenti Giuseppe Di Giacomo e Roberto Amatuna vorranno ricandidarsi. Dietro di loro scalpitano il ragusano Giuseppe Calabrese, che potrebbe contare anche sul sostegno del segretario provinciale Zago e il vittoriese Fabio Nicosia. Insomma tre posti per quattro uomini. Complicata anche la ricerca delle due donne. Tra le papabili Venerina Padua, ex consigliere provinciale, e Congetta Fiore, già candidata alle passate elezioni regionale per l'MPA. Secondo i ben informati, l'attuale assessore vittoriese sarebbe stata contattata proprio dall'MPA. Tra i possibili candidati degli autonomisti ci sarà l'assessore regionale Francesco Aiello, che ha abbandonato il progetto di Zamparini dopo l'incarico assunto all'interno regionale. Immancabile è Riccardo Minardo, attuale deputato, sul quale però pesano i precedimenti giudiziali in corso. E' quasi sicuro anche l'ex sindaco di Pozzallo, Giuseppe Sulcenti. Ma anche l'MPA è alla ricerca delle due donne. Passiamo adesso al PDL. Qui la confusione regna sovrana. Se uno dei papabili è il deputato nazionale Nino Minardo, bisognerà capire se l'attuale capogruppo all'Arsi Innocenzo Leontini insisterà nel progetto del nuovo movimento avviato con il PID, abbandonando il partito ufficiale. Per gli altri posti in lista circolano i nomi del vittorese Riccardo Terranova, del sindaco di Comiso Alfano, mentre per le quote rosa ancora nessun nome. In caso di Cio Razio Ragusa cerca la riconferma, ma potrebbe essere insidiato da Franco Antoci, ex presidente della provincia. Infine il neonato movimento per la gente. Sicura la candidatura di Nello Di Pasquale, si cercano altri quattro volontari per portare acqua al mulino. Mission di tutti è quella di superare lo sbarramento del 5% al livello regionale e non provinciale, lo ricordiamo. Insomma, per un movimento poco radicato nei vari territori, un'impresa quasi impossibile. Prima presa di contatto del commissario straordinario della provincia Giovanni Scarso con il comitato ristretto che ha seguito l'iter della Ragusa Catania. Alla presenza dei componenti del comitato è stato fatto il punto della situazione, alla luce dell'incontro che nei giorni scorsi Scarso ha avuto con il dirigente generale dell'ANAS Settimianucci, che ha avviato e sta per concludere le procedure per la firma della concessione al pool di imprese che si è giudicato il progetto di finanza. Il primo passaggio è appunto la firma della concessione, poi bisognerà presentare da parte del concessionario il progetto definitivo e quello esecutivo, prima di un ultimo passaggio al Cipe per il via libera definitivo. È comunque il 2013 l'anno in cui partiranno i lavori. I componenti del comitato hanno espresso soddisfazione per la decisione del commissario straordinario di proseguire nell'azione di monitoraggio dell'importante infrastruttura di concerto con il comitato ristretto. È stata sottolineata la positività del ruolo e dell'azione portata avanti dal comitato in questi anni e che pare necessario sollecitare l'ANAS e gli altri organi tecnici e istituzionali ad accelerare l'ITER per accorciare i tempi dell'inizio dei lavori della nuova Ragusa Catania. Ma durante l'incontro si è discusso anche dell'aeroporto di Comiso. Io prima ho parlato qua in questa riunione con il comitato di tallonamento, cioè noi talloneremo sia per quanto riguarda la 514, Nucci e anche il suo superiore, il direttore generale, perché vogliamo sapere tutti i passaggi che mi ha elencato Nucci nell'incontro, tutti i passaggi che lui mi ha elencato, compreso quello che, non so, ancora deve essere firmato il progetto con la convenzione con le imprese e quindi, ma sono passaggi normali, cioè non è che sono passaggi allora, l'opera è stata finanziata, non ce ne sono problemi, i problemi sono la burocrazia, questi passaggi deve andare al Cipe e quindi ci sono una serie di passaggi che ci porteranno a un anno, un anno e mezzo di tempo, così come mi ha detto il dottore Nucci. Una rete museale per rilanciare il turismo nella città di Raguse, il capoluogo Ibleo si è presto a lanciare un'iniziativa che vedrà coinvolti diversi immobili storici della città. Il primo museo di scaletta è quello del tempo contadino, allocato nello storico Palazzo Zacco, adesso sede definitiva della civica raccolta cappello. Lo scopo è quello di aumentare le offerte turistiche della città Iblea. Tra i promotori di questa iniziativa, il Centro Servizi Culturali, il Centro Studi Feligiano Rossitto e gli architetti Fabio Capuano e Andrea Gurrieri, i redattori del progetto, che durante una conferenza stampa hanno illustrato quanto verrà realizzato in tempi relativamente brevi. Si inizierà, come detto, il prossimo agosto con il Museo del Tempo Contadino di Palazzo Zacco, con un percorso temporale che mostrerà oggetti di uso comune della vita contadina eblea. La seconda tappa prevista sarà la Casa Museo di Marianina Coffa in Piazza San Giovanni, dove ha abitato la poetessa ragusana. Qui saranno ospitati gli scritti originali e le notizie storiche della poetessa. Poi ancora la Casa Museo di Giambattisto Dierna, nei pressi di Largo San Paolo. La casa, dedicata all'astronomo, raccoglierà numerosi documenti e libri che scrisse durante la sua vita di ricerca. Ed ancora negli spazi dell'ex biblioteca civica di Via Matteotti ci sarà nel Museo di Arte e Mestieri e alla raccolta del Museo Italiano in Africa, senza dimenticare naturalmente il Castello di Donna Fugata. Per i turisti e i visitatori sarà possibile acquistare anche diverse card per gli ingressi nei musei ed usufruire così di promozioni e vantaggi. Convegno sulla partecipazione nei progetti di pianificazione urbanistica e territoriale alla trentesima edizione di Medexpo. L'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione Sicilia e la CNA hanno siglato un protocollo di collaborazione a conclusione dell'incontro che si è tenuto nella Sala Convegni della Fiera Emaia. Numerosi gli interventi previsti sulle tematiche della pianificazione strategica e sulla valutazione ambientale nello scenario in continua evoluzione dell'urbanistica nazionale. Il tema della partecipazione nelle forme classiche del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte decisionali, si legge in una nota dell'INU, è stato sempre per gli urbanisti un campo privilegiato di ricerca che ha prodotto importanti sistematizzazioni teoriche e interessanti sperimentazioni empiriche. Solo raramente però, almeno in Italia, le sperimentazioni sono uscite dai confini dell'utopia e a produrre risultati irrilevanti e ripetibili e tantomeno hanno consentito di pervenire ad una qualche codificazione operativa. Secondo l'INU, coinvolgere gli attori sociali ed economici nei processi di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale non è certamente un esercizio fino a se stesso, dal momento che serve a ridurre i conflitti e ad assicurare politiche e processi decisionali efficaci e trasparenti. La partecipazione implica la possibilità che i cittadini partecipino ai processi di pianificazione collaborando definitivamente con il progettista stesso, quindi è un'utopia perché le forme della partecipazione spesso sono difficili da realizzare, perché i cittadini devono per partecipare naturalmente spogliarsi degli interessi privatistici e mettere avanti quelle che sono invece le aspettative di interesse pubblico e generale e la nostra cultura spesso ci crea una difficoltà in questo senso perché la nostra cultura è spesso una cultura del privato più che del pubblico. La procura atterra sull'aeroporto di Comiso e apre un fascicolo. In discrezioni parlano di una doppia indagine, una per approfondire i motivi del ritardo dell'apertura dello scalo aeroportuale, l'altra per valutare il danno erariale provocato. A volerci vedere chiaro sulla vicenda sono la Corte dei Conti di Palermo e la Procura della Repubblica di Ragusa, 46 milioni spesi finora per lo scalo casmeneo che però non riesce a vedere la luce e di questo qualcuno ne dovrà rispondere. La notizia dell'indagine arriva poche ore prima dell'occupazione dello scalo romano di Fiumicino da parte dell'onorevole Pippo Di Giacomo e di altri sostenitori della causa aeroporto di Comiso, ma la questione dello scalo aeroportuale si è spinta oltre. Troppe le lacune e i buchi neri da chiarire in questa storia infinita, che neanche l'ultimo atto da assessore regionale alle infrastrutture di Pier Camillo Russo di intitolarlo a Piola Torre, peraltro dedico originaria, è riuscito a sbloccare. Ma in fondo i dubbi che un semplice cambio di nome potesse risolvere una vicenda dai mili interrogativi erano diffusi e chissà che l'intervento delle fiamme gialle adesso non riesca a dissiparli. Sia la proroga della gestione dei servizi a pagamento da parte delle Maia, lo ha stabilito ieri il Consiglio Comunale a Vittoria, che dopo non poche difficoltà è arrivato a questa decisione. Una scelta che ha trovato l'appoggio di tutti i consiglieri e anche di chi, come Selle, solo ieri si diceva contrario a questa decisione. Abbiamo modificato la nostra posizione, dichiara Mariela Garofalo, capogruppo consigliare del partito, perché accanto alla proroga per altri sei mesi l'atto contiene la previsione dell'esternalizzazione del servizio entro questo termine. Dunque un compromesso tra quanto che deve il partito, contrario la gestione dei parcheggi da parte delle Maia, è il ritardo che il Comune Parino, per la seconda volta, ha registrato nella gestione di questa problematica. Sarebbe scaduta infatti oggi la proroga di sei mesi concessa alle Maia a dicembre scorso e quindi non c'era tempo da perdere. Motivo per cui si è deciso di proseguire i lavori nonostante gli atti relativi all'ordine del giorno non erano stati disponibili 24 ore prima della seduta, ha prevalso il nostro senso di responsabilità, spiega Garofalo, e anche se i nostri dubbi permangono abbiamo preferito votare a favore di una nuova proroga. Il Consiglio e l'amministrazione avranno dunque altri sei mesi di tempo per preparare il necessario per l'esternalizzazione del servizio. 21 candeline per Ibla Grand Prize, il concorso internazionale di musica e di canto che da domani fino al 10 luglio tornerà a Ragusa Ibla. Ieri durante la conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento sono stati rivelati i momenti più interessanti del concorso, come il concerto Ibla Africa di martedì 3 luglio a Villa Criscione per la consueta raccolta fondi di beneficenza da destinare ai padri carmelitani che operano in Madagascar e l'iniziativa di giorno 8 luglio con Ibla World in onore della Baronessa Costanza Arezzo Giampiccolo di Donna Fugata. Anche quest'anno toccherà alla giuria internazionale presieduta dal maestro Marcello Abbado scegliere i migliori concorrenti che in premio avranno la possibilità di esibirsi alla Carnegie Hall di New York e in altri teatri di prestigio nelle principali capitali del mondo. Nota dolente e ridotto numero di partecipanti che quest'anno saranno la metà rispetto allo scorso anno, causa la carenza dei contributi pubblici e la cancellazione di ben 2500 presenze turistiche, a causa, dichiara il presidente della Fondazione Ibla, Salvatore Moltisanti, di scelte errate e poco chiare dell'amministrazione comunale e del suo sindaco Di Pasquale. Noi siamo in una crisi particolare perché l'Ibla Compressa è stato ucciso già l'anno scorso, non siamo stati sostenuti per cui siamo già morti da un anno e allora parliamo di nuovo non di musica perché non c'è bisogno di concerti a Ragusa ma parliamo di cose serie che crisi finanziaria. Libra Grand Prize rappresenta un'entrata finanziaria turistica importante per Ragusa, 5000 presenze è quello che Libra Grand Prize porta da 20 anni in questa città e quest'anno abbiamo dovuto cancellare migliaia, dico migliaia di presenze turistiche, ci sono delle responsabilità, invito a capirle, chiedo di organizzarci, svegliarci e cercare di risolvere questi problemi. Quando incontrate il sindaco, ditegli al signor sindaco perché ha fatto cancellare direttamente migliaia di presenze turistiche? Siamo stanchi delle bugie, signor sindaco non ci crediamo più. Grazie a tutti.